Il Castelnuovo per un solo obiettivo, vincere per la vetta e riconquistare il potere sul proprio terreno di gioco. Il Giulianova per un unico obiettivo, punti e solo punti dopo il successo nel recupero di Montegiorgio deve aprire una striscia. Tutti abili per Guido Di Fabio che trova posto a foglia sulla linea di difesa e Basilico a far coppia con Loviso sulla mediana. Emergenza difesa in casa, Bitetto che fa esordire Enrico Galli appena arrivato da Lentigione si affida a Barlafante insieme a Selin. Gli highlights con le immagini di Mario Giacchetta partono dal diciassettesimo. Fagioli gioca senza guanti e allora prova a scaldare le mani, anzi la mano ma l'arbitro gli ricorda che il calcio si gioca con i piedi giallo per lui ma la voglia di gol è già tanta. Giulianova in evidenza alla mezz'ora Massetti uno dei più lucidi fra i giallorossi prova il destro e costringe Natale in angolo dello sviluppo del quale Galli prova la deviazione vincente sotto misura. Due minuti si mette in proprio De Cerchio, slalom e tiro Natale ancora presente. Attenzione a Tedone al trentacinquesimo che anticipa Emili e prova la botta, blocco Natale. Un minuto dopo la replica nero-verde di Fagioli fin troppo alta. Al quarantesimo Castelnuovo vicino al gol, Gross di Sanseverino, pugni di calzetta, riaccatta lo viso a colpo sicuro ma l'estremo giallorosso intercetta e rimedia. Ma è solo un prologo perché De Gido viene toccato in area. L'arbitro è lì e sebbene con un alito di ritardo concede la massima punizione dopo quattro minuti dall'azione dello stesso giocatore. Così lo viso dagli undici metri non lascia scampo a calzetta. Uno a zero. Si chiude il primo tempo e in apertura di ripresa il Castelnuovo omicidi compie il più perfetto dei delitti e colpisce quando deve e come sa. Settimo. Emili fa tutto da solo, forse con la complicità della difesa giuliese che non crede all'iniziativa del fantasista nero-verde che disegna l'arco vincente del 2 a zero. Gol che taglia le gambe e fiacca un po' il morale dei giallorossi che tuttavia riprovano a far gioco ma al diciannovesimo Emili rompe l'Accademia giallorossa con una invenzione degna davvero di plauso. A chi fosse piaciuto il primo gol ecco la seconda perla sulla quale ogni commento sembra di troppo. Il Giulianova comunque è vivo al ventiquattresimo Tipaldi per Barlafante. Il colpo di testa non è forse il suo repertorio preferito ma in ogni caso piazza poco sopra la traversa. Al trentatresimo Calzetta sugli scudi sbarbati prova l'acuto ma sarà questione di tempo. Nel frattempo Paudice è tenace e fortunato nel batti e ribatti e fin quando non filanizza per l'uno a tre. E dicevamo di sbarbati che al quarantaduesimo trova la gioia personale con un perentorio colpo di testa su cui Calzetta non può opporsi. E' messa di gol che si compie al quarantanovesimo quando Manari pennella per la testa del troppo solo Bregasi che si diverte a siglare il full neroverde per la neocapolista. Lorenzo ha messo la firma su due gol, uno più bello dell'altro. La ringrazio, sono molto contento sia dalla prestazione mia personale che quella di gruppo e questo è ciò che conta. Cosa ti hanno detto i tuoi compagni nello spogliatoio ma soprattutto anche sul campo dopo la doppietta? Sono contenti perché sanno che per un ruolo come il mio o come quello di altri il gol è importante quindi dà autostima a tutti quanti. Siete primi in classifica? Sì, mancano alcune partite ma comunque ci contiamo il momento e l'importante è continuare a vedere partita dopo partita e a fare il meglio che possiamo. Allora mister, ci vediamo questo primo in classifica no? Sì, se vincevamo sapevamo di stare prima in classifica però ci siamo già stati, non è questo quello che conta. Quello che conta è che comunque dopo un primo tempo abbastanza equilibrato avete preso in mano la partita e l'avete conclusa nel migliore dei modi no? No, sì, è difficile giocare con queste squadre che sono organizzate perché Giulianova ci ha dato fila alla torcia e forse il risultato di 5-1 è un risultato pesante per il Giulianova perché secondo me ha discutato una buona partita. Poi siamo stati bravi noi e fortunati a sbroccarla prima alla fine del primo tempo e nel secondo ci si è aperto qualche spazio in più e l'abbiamo sfruttato facendo dei bellissimi gol. Quindi devo dire bravi ai ragazzi perché hanno avuto pazienza e hanno fatto quello che dovevano fare. Bravi anche coloro che sono entrati in campo dalla panchina che poi hanno magnificato il risultato. Sì, io lavoro spesso sulle motivazioni di quelli che giocano meno perché in questa squadra si devono sentire tutti importanti perché prima o poi le occasioni capitano a tutti e devono essere sfruttate da chi viene chiamato per farlo. Bisogna allenarsi sempre alla massima intensità e loro devo dire lo fanno. La cosa più difficile in questo momento è che oggi ho mandato sei persone in tribuna e mi dispiace da morire perché non lo meritano. Però purtroppo devo fare le scelte per come si allenano mi dispiace da morire. E viva l'abbondanza! Sì, ci sono tanti ragazzi giovani che devono prendere quest'anno per una maturazione personale però si allenano con noi, si impegnano con noi quindi è giusto o magari quando sarà possibile dargli qualche riconoscimento in più. Una battuta veloce sulle due perle di Emili? È un giocatore di qualità che abbiamo avuto preso già l'anno scorso, ha fatto molto bene, quest'anno l'abbiamo tenuto in questa categoria e ci sta dando ragione le scelte che abbiamo fatto. Quindi come lui ce ne sono tanti altri che con umiltà lavorano e si ritagliano i loro spazi. Se mi permetti voglio dedicare questa vittoria a tutte quelle persone che in questi due giorni hanno spalato il campo per renderlo giocabile, hanno fatto un lavoro massacrante, li ringraziamo e diciamo veramente grazie di cuore per quello che hanno fatto. E noi ci associamo, buon lavoro! Allora mister, un primo tempo giocato con molta personalità in cui alla mezz'ora avete avuto anche due buone occasioni, poi il rigore vi ha un po' fiaccato e anche il secondo gol, che ne dici? No, la differenza l'hanno fatto le reti, loro hanno meritato di vincere perché hanno fatto quattro gol più di noi, per carità, però la partita credo che sia stata aperta, anche nel secondo tempo, nel primo abbiamo sofferto quasi nulla. Giuliano ha sempre giocato, è stato sempre in partita. Siamo stati sempre in partita, come lo siamo stati anche nel secondo tempo. E' chiaro che poi la differenza la fanno a volte anche le giocate dei singoli, non lo so se il secondo gol si era intenzionale, sinceramente dalla panchina non si è visto, ma credo di no, credo, presumo. E' lo stesso gol che abbiamo preso con il secondo gol che abbiamo preso con il notaresco in casa, un cross che si è infilato dall'altra parte. E questo non ci ha condizionati, abbiamo continuato a giocare, abbiamo cercato di recuperare, c'è stato poi, ecco la differenza, c'è stato anche il barlafante che di testa da solo davanti alla porta l'ha tirata alta, era un 2-1 e magari si riapriva la partita, chissà, sarebbe successo qualcosa. Però sappiamo che nel calcio possono accadere queste situazioni, ripeto, loro hanno meritato perché hanno fatto 4 gol più di noi, però a dire il vero anche quelli che sono entrati dalla mia squadra hanno cercato di dare una svolta nonostante il 3-1. Chi è entrato nel calcio di nuovo non ha cambiato, perché anche il tasso tecnico, anzi lo ha elevato, visto che poi chi è entrato ha fatto gol. E va bene, l'ho detto prima, la differenza è anche… La differenza la fanno anche questi singoli qui, no? Però è ovvio che noi dobbiamo cercare, proprio di sopperire a questo, dobbiamo cercare di giocare più da squadra, così come stiamo facendo e così come stiamo in piena evoluzione. Qualcuno in tribuna stampa diceva Giuliano Vabello fino alla tre quarti, poi qualcosa che manca lì davanti. Beh sì, insomma, anche perché lì davanti potevamo incidere un po' di più, però, ripeto, adesso queste sono situazioni che stiamo già vagliando in assoluto. L'importante è che la squadra si sia espressa sempre comunque con un calcio tante volte non manovrato, però comunque molto molto incisivo e anche con un'intensità tale da poter recuperare palle e ripartire, ripartire velocemente, recuperare palle nella metà campo avversaria quando era possibile poterlo fare. E noi tutto questo l'abbiamo fatto. Poi ci vuole, come diceva lei prima, insomma, la personalità, abbiamo giocato con la personalità, ce ne vuole ancora di più, visto che dobbiamo comunque coprire questo gap con gli avversari sulla carta più forte di noi. Confortante per finire per la partita contro l'Agnonese. Eh sì, poi la terza partita in dieci, eh sì, di fatto è abbastanza impegnativo, poi è una trasferta anche bella, diciamo, lontana, brutta per arrivare, però al di là di questo adesso dobbiamo solamente recuperare e ricominciare proprio da dove, magari non dai quattro gol di differenza presi, ma da quella che è stata la prestazione.